I due pensionati non hanno i soldi per pagarsi l'aperitivo e poi scogliono il sistema. Mi dice, Giovanni, vieni nel bar, ti porto a tirare un Wuster, metti un quattro bianco, e dopo, quando ti muovete a pagare, ti resta il Wuster d'altra faccia per metterli vicino alla patina, metti i scopi giocchi, il Wuster resta schifo di quella fonte, via fuori dal Nepal, via fuori dal Nepal, via fuori dal Nepal. Così è il primo bar, così, schifo di fuori dal Nepal. Secondo bar uguale, terzo bar uguale, quattro bar uguale, quinto bar uguale, e io fuori dal quinto bar, gli dice, andiamo anche qua a Giovanni. Ho detto, mi sono un po' giocchiosti, e poi, quando sei scopi giocchi, ma sei scopi giocchi, ma sei scopi giocchi, la pipata al Wuster, mi fanno male tutti i cittadini, e che la che fa per la mia, dopo il secondo bar, ho detto, la Wuster. Grazie.